Ciao, sono Nicola del negozio Passport. Prima di tutto amici vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sulle nostre novità. Oggi vi presento un'importante novità nel mondo trail di Brooks, ovvero Cascadia 17. Al volo due dati tecnici, abbiamo un differenziale di 8 mm e un peso nella taglia 9 maschile di 311 grammi. Brooks è voluta entrare in maniera molto forte nel mondo trail e questa scarpa ne è l'esempio. Abbiamo una temaia molto più strutturata e contenitiva, dei rinforzi molto importanti nella zona dell'avampiede e un tallone molto rinforzato e solido. La protezione e la struttura di questa scarpa si vede soprattutto dall'intersuola. Abbiamo DNA Loft V2 che rende la scarpa morbida ma allo stesso tempo estremamente reattiva. Abbiamo avuto la fortuna di provarla in terreni anche molto molto tecnici e abbiamo scoperto una scarpa estremamente stabile grazie al Trail Adapt System di Brooks che è una piastra a tutta lunghezza che garantisce stabilità e ottima propulsione. Correndo la sensazione è di estrema morbidezza. Ho avuto la fortuna di provare questa scarpa all'Ivigno Sky Marathon e in salita si percepisce un'ottima protezione e propulsione grazie al Trail Adapt che spinge e protegge. Anche nei terreni più tecnici non avevo paura, era una scarpa estremamente confortevole. Ma volete sapere qual è la vera chicca di questa scarpa? Assolutamente il grip. Quando si parla di trail ovviamente è una delle parti più importanti e Cascadia 17 con questo nuovo tassello disegnato ha fatto davvero bingo. Nel dettaglio la nuova Cascadia 17 presenta tre linee di flessione. Una nella parte centrale per garantire stabilità nei traversi e due nella parte mediale per garantire miglior flessibilità. Salta subito all'occhio il nuovo tassello. Abbiamo nella parte finale e nella parte dell'avampiede della scarpa un tassello un po' più alto. Nella parte mediale invece leggermente più basso. Questo garantisce un'ottima fluidità nella corsa anche nei terreni più tecnici e soprattutto una miglior stabilità nelle zone di discesa e una miglior trazione in salita. La suola nasce da un disegno molto curioso. Infatti nasce sulla forma dello zoccolo dello stambecco. La gomma utilizzata è la Green Rubber Trail Tuck che garantisce un'ottima aderenza anche con un occhio all'ambiente. Usata, testata e me ne sono già innamorato. Una scarpa veramente spaziale. Tantissimo grip e tantissima solidità. E' una scarpa che anche per i terreni più impervi, per i terreni più montuosi può essere veramente molto apprezzata. Nele gare molto lunghe o nelle gare anche più corte dove sai che trovi terreni cattivi la scarpa risponderà al meglio. Che dire ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto anzi lasciatemi un like e usate pure i commenti qui sotto per dubbi o domande. Vi aspetto naturalmente nelle nostre sedi sia a Busche che a Signoressa oppure se abiti lontano anche online sul nostro sito www.passport.it. Ciao!